Cari, gentili, prossimi exchange student, quale momento migliore per pianificare il vostro programma scolastico in Gran Bretagna? Se siete ancora alla ricerca di un motivo valido per partire, ve ne posso dare almeno tre. Qualità accademica e ampia scelta di materie. Oltre alle materie tradizionali potete trovare anche le lingue, tedesco, cinese, oppure criminologie, ingegneria, meccanica, architettura, per restare al pari con il tuo curriculum scolastico italiano. Innumerevole attività extrascolastiche come accademie sportive, basket, calcio, pallavolo, rugby, oppure accademi per le arti creative come la danza, la musica, il teatro. Un magnifico paese è tutto da scoprire. Vi sarà facile visitare Londra, Brighton, la magica Stonehenge e molto alto da esplorare. Il resto lo scoprirete voi. Se vi incuriosite o lasciate un emotico nei commenti che vi ricordi la Gran Bretagna. Cordialmente vostra, Interstudio Viaggi.